E Charlene che incontra oggi Chiara Lupi, direttore editoriale di Este, che in questa occasione ci parla invece di convivio, di tutta quell'attività di cui abbiamo già parlato nell'intervista scorsa relativa ai convegni e in particolare oggi parliamo di un particolare convegno. Sì, il convivio è un evento legato alla nostra rivista Persone e Conoscenze, quindi una rivista che è dedicata alla direzione del personale ed è certamente il più grande appuntamento dedicato a questo tema. È un evento che è cresciuto negli anni e si è ritagliato uno spazio che era occupato negli anni scorsi da altri appuntamenti, ricordo il forum di Sommedia, ad esempio, che catalizzava molto l'attenzione su questi temi. Oggi possiamo dire che il convivio di persone e conoscenze è certamente il più importante appuntamento legato ai temi che riguardano la direzione del personale. È un appuntamento all'interno del quale affrontiamo tutte quelle che sono le tematiche che interessano appunto la direzione del personale, ma la specificità, la caratteristica di questo incontro è che è una grande occasione anche di networking. Avremo quest'anno quasi 450-500 metri quadrati di area espositiva all'interno del quale appunto le aziende si possono incontrare, le aziende possono incontrare i nostri visitatori. Abbiamo già da qualche anno organizzato un servizio di matching, quindi di incontri anche di business e abbiamo anche una grande libreria, una libreria all'interno della quale è possibile trovare non solo i libri nostri della Este, ma tutti i libri anche di altri editori, quindi è possibile trovare un'ottima offerta di contenuti manageriali all'interno del nostro spazio. Quindi anche in questo caso abbiamo un evento che non si limita all'ascoltare esperti del settore che spiegano le tematiche su cui è centrato l'evento, ma poi ci sono tutta una serie di eventi collaterali, mi sembra di capire, quindi offrite anche in questo caso un servizio molto ampio a chi viene a partecipare al vostro evento. Sì, diciamo che il senso è spesso proprio nel titolo che abbiamo dato a questo appuntamento, il convivio, quindi per noi è un grande momento di approfondimento culturale, ma anche un grande momento di relazione, quindi di relazione e di confronto. Quindi certamente cerchiamo di costruire un programma culturale di grande interesse all'interno del quale poi le persone hanno la possibilità di incontrarsi e di sviluppare dei momenti di relazione. L'evento dura tutta la giornata, quindi dal mattino alle 9 fino alla sera, fino al tardo pomeriggio. Quest'anno si sviluppa con una mattinata di sessione plenaria dedicata così alle strategie, allo scenario e il pomeriggio invece abbiamo organizzato 5 sessioni parallele di approfondimento che sono dedicate alla formazione, allo sviluppo, lo smart working, al benessere organizzativo, i piani retributivi e i sistemi premianti e le tecnologie per l'HR. Al termine di queste sessioni parallele ci sono dei laboratori di approfondimento gestiti dalle aziende che sostengono la nostra iniziativa, quindi è una lunga giornata, partiamo così dagli scenari per entrare poi in quelle che sono le tematiche più tecniche che interessano la direzione del personale. Questa formula da dove nasce? Perché è decisamente originale, ripeto, molto ampia nell'offerta che dà ai partecipanti. Da dove è partita l'idea e quando siete partiti con questa formula? Allora il Convivio è un'iniziativa che noi facciamo dal 2011, quindi abbiamo già qualche anno di storia alle spalle. Negli anni abbiamo modificato la formula, non rimaniamo mai uguali a noi stessi. Nello specifico rispetto al programma di quest'anno abbiamo proprio deciso di, anche con l'aiuto di ospiti importanti, di fare un po' una riflessione su quello che è il contesto all'interno del quale le nostre aziende sono calate, quindi cerchiamo di farci aiutare, insomma da chi anche con un approccio un po' filosofico ci aiuta ad interpretare un po' il presente per poi invece entrare nel dettaglio degli strumenti che ha a disposizione il direttore del personale. Quindi abbiamo voluto creare questa giornata che è un momento di grande riflessione, quindi come dicevo con l'aiuto anche di testimonianze eccellenti, ma poi anche che ci dà la possibilità di così entrare nel concreto di quelle che sono le attività del direttore del personale. Chi sono questi testimoni eccellenti? Allora noi apriremo il nostro convivio il 18 di maggio con Vito Mancuso che è un teologo, un editorialista famoso, uno scrittore e con lui ragioneremo proprio sul senso del vivere quotidiano, sul senso del lavoro, sul nuova umanità che devono avere i contesti di lavoro. Noi sappiamo che all'interno delle organizzazioni c'è molto disagio, c'è molta sofferenza, quindi è bene anche ragionare sul senso che le persone danno al proprio vivere, ma al proprio vivere in un senso così generale, non il proprio vivere al lavoro. È sempre pericoloso separare la vita dal lavoro o comunque questa separazione diciamo che non sta producendo dei grandi risultati, quindi bene ragionare in termini di senso complessivo che la persona dà a se stessa e quindi apriremo con queste riflessioni. Naturalmente poi invito le persone a venire a sentire Vito Mancuso perché ne posso dare un'interpretazione per quello che ci siamo un po' raccontati. Poi avremo il contributo di Giulio Sapelli che di fatto è un economista e quindi è un economista anche coraggioso perché ci dà una visione un po' disincantata di quella che è la realtà degli scenari economici, economico-politici. Di fatto lui ci dice sempre che non dovremmo leggere i quotidiani italiani perché non ci dicono la realtà, non ci raccontano quello che sta succedendo. Ecco, lui ci dà un po' un quadro di contesto, ci dà un po' dal suo punto di vista, ci dice un po' dove va il mondo ecco. E poi abbiamo, poiché dicevo il mondo sta cambiando, sta cambiando il modo con il quale le persone si relazionano con l'organizzazione, abbiamo pensato di invitare un grande esperto di relazioni industriali che è Paolo Rebaudengo che è stato responsabile delle relazioni industriali di Fiat fino al 2012 perché insomma se è vero che tra le aziende e le persone si devono fondare dei nuovi patti, ecco Paolo Rebaudengo ci può dire in quale direzione dovremmo andare. Dopodiché chiudiamo la prima parte della nostra mattinata con un direttore del personale che è diventato un CEO del personale e questo è un caso abbastanza raro perché di solito i direttori del personale rimangono nella loro posizione in realtà nella maggior parte dei casi per tutta la loro carriera. Invece abbiamo Alessandro Preda che è diventato CEO di Autogrill dopo essere stato a capo del personale quindi dopo queste riflessioni entriamo in azienda. Poi avremo una tavola rotonda con dei direttori del personale e dei rappresentanti di aziende che sostengono il nostro appuntamento e poi avremo come dicevo il pomeriggio diviso in sessioni parallele e laboratori e poi chiudiamo la nostra giornata. Quali sono stati i risultati che avete ottenuto dalle precedenti edizioni e quali vi attendete dall'edizione prossima? Allora come avevo anticipato il nostro convivio è sempre stato un appuntamento molto molto partecipato. Qui ho dei numeri nel 2015 abbiamo avuto quasi 500 iscritti, 300 presenti, 340 aziende rappresentate e 54 relatori quindi questi sono i numeri dell'edizione del 2015, il 2016 certamente i numeri non saranno inferiori. posso darvi dei numeri complessivi che riguardano questa iniziativa. Dal 2011 noi abbiamo avuto quasi 3.000 iscritti, 1.700 presenti e 2.300 aziende rappresentate quindi i numeri di questa iniziativa sono certamente significativi. Cos'altro ci può dire di convivio allora? Ma direi che chi ci sta guardando si può iscrivere al nostro appuntamento, questo è il nostro invito e dal nostro nuovo sito este.it è possibile registrarsi la nostra giornata che sarà come dicevo il 18 maggio. Noi la ringraziamo dottoressa per l'attenzione e il tempo che ci ha dedicato. Le facciamo tanti auguri per il prossimo convivio e saremo ben lieti di farci raccontare poi quali sono stati gli esiti e quindi i futuri sviluppi. Grazie ancora.